E' giovedì mattina e io sono in compagnia di Donald Wiesch, amministratore delegato di MES Frankfurt Italia, la persona ideale per me per poter parlare e fare un mini bilancio di questa fiera. Allora, buongiorno intanto Donald. Buongiorno a te Giancarlo. Ti vedo sorridente, quindi già deduco che siete soddisfatti. Sì, bisogna dire che è un'edizione anomala di Light & Pink. Certo, si chiama Autunno. Esatto, bravo, si chiama Autumn Edition, sottolineando il fattore stagionale. Tradizionalmente la fiera si tiene in primavera, nei mesi di marzo-aprile. Lo sappiamo. E sappiamo che è stata cancellata l'ultima edizione, è stata spostata, doveva tenersi diverse volte. Ha subito un travaglio, diciamo. Ha subito un certo travaglio. Quindi parliamo di un'edizione anomala. Le aspettative erano chiaramente non quelle che avremmo avuto per un'edizione normale, fra virgolette, e dobbiamo dire che queste aspettative che avevamo, che erano ragionevoli, sono state superate per la maggior parte. È stata confermata l'internazionalità della fiera, quindi al di là dei paesi critici come la Russia e la Cina, c'è stata una grande affluenza da parte degli operatori esteri, soprattutto dall'Italia, nuovamente al primo posto come numero di visitatori. L'Italia è sempre protagonista, sia a livello espositivo che a livello appunto di visite. E abbiamo visto tante novità in fiera, dal punto di vista tecnologico sicuramente è un appuntamento che nessuno, diciamo, che fa parte del settore può in qualche modo, oppure può rinunciarci. È un appuntamento irrinunciabile, senz'altro, proprio perché c'è in corso questa grande trasformazione sul digitale, sull'elettrico, il software, diciamo, che diventa sempre più dominante nel settore della building automation, anche parliamo chiaramente di design nella parte della luce. Quindi tutta una serie di elementi che rendono anche questa edizione autunnale assolutamente irrinunciabile. Sì, sì, tu hai voluto anticipare un po' la mia domanda. Direi che tutto quello che è successo ci ha fatto un po' penare, perché siamo arrivati clamorosamente dopo a Francoforte, però ha fatto sì che si presentasse una rivoluzione in tutti i campi espositivi di questa fiera. Giusto? Esatto, esatto. Come dicevo, appunto, c'è questa grande integrazione anche, diciamo, fra vari settori. Qui dentro cominciamo a parlare di mobilità, no? Perché era un argomento, la mobilità, chiaramente, che esulava completamente dall'ambito domestico, se vogliamo, dall'ambito building. Invece adesso fa parte della grande integrazione elettrica, digitale e quant'altro. Infatti, se tiriamo gli stand, la parte di building automation, vediamo moltissimi prodotti legati, appunto, alla e-mobility, alle colonnine di ricarica, all'energy management, no? Quindi c'è questa integrazione, elettrificazione, digitalizzazione, tutto all'insegna, diciamo, della sostenibilità del green e, argomento, diciamo, di grandissima attualità, il risparmio energetico. Eh beh, sì, questo sì, assolutamente. Senti, ma prima ti voglio fare una domanda, diciamo, più politica, ed è questa. Tu che vivi, come me, in Italia, sai che c'è un grosso dibattito sulle fiere, sull'essere, sull'esistere delle fiere, su come farle. Ecco, questa mi è sembrata abbastanza tradizionale, correggimi se sbaglio. Ecco, però, penso che voi non siate insensibili a un tipo di dibattito su qual è il futuro della fiera, se banalmente continuerà come sempre stata, oppure se succederà una trasformazione, anche se credo che il digitale non abbia accontentato molti. Prendo spunto proprio dalla tua ultima affermazione, no? Nel senso che forzatamente abbiamo vissuto alcuni anni digitali al 100%, no? Quindi siamo passati da... Obbligati. Obbligati, esatto. Quindi c'è stata questa digitalizzazione forzata, che in realtà era già in cantiere, diciamo, come passo evolutivo, ma complementare, non sostitutivo della fiera fisica. L'abbiamo sperimentato, il nostro malgrado, è un esperimento che ci ha insegnato molto, ha dato molti spunti, però bisogna dire, come appunto hai appena affermato tu, che quasi nessuno, l'unanimità, l'unanimità, diciamo, tutti quanti, i nostri operatori, visitatori, espositori, quant'altro, preferiscono ancora la fiera fisica, no? Questo però vuol dire che, cioè non vuol dire che il digitale ha fallito completamente, anzi, anche in questa fiera qui abbiamo introdotto tutta una serie di elementi digitali, c'è praticamente una fiera digitale che accompagna la fiera fisica, quindi gli operatori possono interfacciarsi anche virtualmente, se vogliamo, con gli espositori, se non hanno la possibilità, per esempio, di venire qui, per tutta una serie di motivi, sappiamo che alcuni visitatori hanno delle difficoltà anche legate ai visti, per esempio, piuttosto che a situazioni pandemiche, e quindi, diciamo, c'è questa ibridizzazione delle fiere, che è un'evoluzione continua, e noi siamo convinti che il futuro della fiera resterà fisico, ma sarà accompagnato appunto da sempre più elementi digitali. Cioè, io dico, evviva. A questa considerazione, noi umani potremmo avere ancora un senso, insomma, non è che verranno dei visitatori digitali. Aspettiamo il metaverso, cosa ci porterà, comunque per il momento non ci siamo ancora. Va bene. Senti, adesso dobbiamo parlare anche un po' del futuro, sappiamo che, Dio volendo, si riprenderà la tradizionale cadenza biennale, e quindi c'è già una data orientativa naturale, cioè 2024, che mi dice a proposito? Sì, assolutamente. L'obiettivo è quello di tornare a regime, quindi di tornare alla data di primavera, che è quella preferita soprattutto dal settore della luce, perché abbiamo visto che alcuni operatori nel settore illuminazione, effettivamente, hanno rinunciato alla fiera per motivi stagionali, perché loro le novità le presentano forzatamente, diciamo, in primavera. Ci devo dirti che questa è l'unica critica che ho sentito. Sì, per forza. Settembre, ottobre non è il momento di illuminare. Esatto, diciamo che l'illuminazione ha sofferto un pochino di più, appunto, questo spostamento, mentre la parte building automation, in realtà, è praticamente uguale a quella che abbiamo vissuto nel periodo pre-Covid. E, appunto, proprio per favorire anche, diciamo, il ritmo di innovazione, tornare appunto a, da secondare alle esigenze degli espositori nel settore della luce, torneremo alla normalità, diciamo, pandemie permettendo, però penso che ormai diciamo la situazione sia abbastanza sotto controllo, guerre permettendo, poi chissà cosa verrà. Comunque, diciamo, il nostro obiettivo è quello di tornare alla primavera del 2024, quindi cadenza biennale a primavera. Bene, c'è qualche altra primizia che puoi darmi, oppure ci fermiamo qui? Sì, volevo sottolineare anche, diciamo, i nostri appuntamenti internazionali, perché abbiamo visto che Dubai, per tutte le fiere, diciamo, che noi organizziamo a Dubai, è diventato un hub molto importante, ancora più importante del periodo pre-Covid, perché viene visto un po' come, diciamo, location alternativa per visitatori russi, espositori del Middle East, del Far East, anche viste le difficoltà della Cina, quindi Dubai raccoglie, diciamo, tutti quelli che in questo momento hanno difficoltà, diciamo, a venire qui oppure in altri mercati e la nostra Light Middle East, che appunto si svolgerà a breve, sta avendo un'evoluzione incredibile, quindi abbiamo quasi raddoppiato gli spazi espositivi e ci attendiamo un grande flusso di visitatori anche internazionali in questa location. So che agli italiani piace molto la location di Dubai, gli interessa molto, diciamo. Non solo agli italiani piace un po' a tutti. Non solo agli italiani, però agli italiani, come al solito, sono buoni protagonisti. Sicuramente, sempre, gli italiani sono sempre grandi protagonisti ovunque. Benissimo, grazie Donald, amministratore delegato di MES Frankfurt Italia, è un piacere sempre averti con noi e a questo punto sappiamo che abbiamo delle altre occasioni in cui ci vedremo. Grazie a te, ci vediamo a Dubai oppure più tardi a Francoforte fra due anni. Grazie a tutti. Grazie a tutti.